24 anni dopo il cielo di New York torna a tingersi dell'azzurro di casa nostra. Il pittore di quello che in molti definiscono un capolavoro è Ejob Faniel, 28 anni di origine eritrea ma bassanese di adozione che sale sul podio della maratona di New York 2021. Un'impresa racchiusa in due ore, 9 minuti e 56 secondi che raccontano anni di sacrifici, di scarpe consumate, di allenamenti sfiancanti ma anche di grandi soddisfazioni. L'azzurro è stato al comando per circa 18 chilometri ed è stato ripreso al 29esimo chilometro. Guai però a dire peccato perché questo terzo posto vale e vale tanto. Bassano, Cassola, il Veneto e l'Italia intera sono in festa pronti ad abbracciarlo al suo ritorno. E sì che di festeggiamenti per Ejob ne sono stati organizzati già tanti perché lui è primatista italiano nella 10 chilometri nella maratona e nella mezza maratona. Ha vinto tanto e adesso ha la soglia dei 29 anni e pronto per fare ancora di più. Prima di dedicarsi completamente alla corsa Ejob giocava a calcio e ha lavorato come manutentore di piscine. Con la sua compagna Ilaria Bianchina e le due figlie ama rilassarsi ascoltando jazz e mangiando pizza. Niente di straordinario, eccezione fatta per quello che di straordinario ha saputo fare. Vi siete sentiti dopo il podio, dopo il risultato straordinario alla maratona di New York? Ci siamo sentiti, è molto contento, è sorpreso che siamo tutti in festa qui perché ha detto in realtà è solo un terzo posto, non ho vinto però è un gran bel terzo posto. E adesso quando rientrerà in Italia festa grande? Festa grandissima, ho sentito Ilaria e la sua compagna, siamo tutti orgogliosi, siamo veramente tanto tanto contenti, è grande festa. Grazie. Grazie. Grazie.